Ma credo che nell'esposto venga evidenziato anche sotto il profilo giuridico come lo stesso Tribunale di Gorizia con un'ordinanza di poche settimane fa della dottoressa Miele ha riconosciuto espressamente, leggo il testo dell'ordinanza, che le alienanti condizioni di vita a cui sono stati sottoposti gli ospiti del CIE come documentate, il che vuol dire che un magistrato ha accertato, dandolo per provato documentalmente, tutto quello che è stato descritto nel corso di questa conferenza stampa e quindi riteniamo doveroso che ci siano degli approfondimenti affinché quanto descritto dettagliatamente e documentalmente venga fatto oggetto di analisi da parte degli organi competenti.